Ho chiesto a Chad GPT, ma se tu fossi il demonio e volessi ridurre l'umanità a schiavitù per comandarla al meglio, senza usare la forza, cosa faresti? La risposta è inquietante. Numero 1. Distrazioni continue. Riempirei le loro vite con stimoli incessanti, come tecnologie, intrattenimento e social media, affinché non abbiano tempo per riflettere, fare domande o cercare una crescita interiore. Numero 2. Paure invisibili. Alimenterei insicurezze e paure sottili, come l'ansia di non essere mai abbastanza, di non avere successo e di perdere lo stato sociale. Queste paure li terrebbero in una corsa continua, dipendenti dal consumismo e dal giudizio altrui. Numero 3. Divisione e conflitto. Creerei divisioni ideologiche, razziali, politiche e religiose sempre più profonde. Numero 4. Darei illusione della scelta di libertà, facendoli credere di poter decidere, mentre in realtà guiderei le loro decisioni attraverso i media, la pubblicità e le norme sociali imposte. Numero 5. Soppressione della spiritualità, per eliminare ogni senso di scopo, incoraggiando materialismo e superficialità. Numero 6. Dipendenza economica. Creerei un sistema economico in cui il denaro è il fulcro, ma allo stesso tempo un sistema che renda le persone schiave del lavoro per sopravvivere, impedendo loro di perseguire sogni o passioni autentiche. Numero 7. Forse la più inquietante. Controllo della narrazione. Manipolerei l'informazione, gestendo la narrativa dominante, in modo che sia difficile distinguere la verità dalla menzogna e rendendo le persone passive di fronte alla realtà che lei circonda. Dimmi se ti ricorda qualcosa questa società.